per testare il sistema colambia intimo strato termico e antivento e guscio abbiamo scelto tra le altre una situazione un po particolare siamo in un indoor ski center con neve vera l'ultimo nato in gran bretagna a manchester si chiama chill factory abbiamo una pista di 190 metri quanto basta per fare un po di curve fatte bene neve dura anche ghiacciata la temperatura all'interno 2 gradi punto 6 sotto lo zero molta umidità quindi condizioni ideali per testare il sistema colambia situazioni abbastanza simili a buona parte delle giornate invernali a cote medie sulle nostre alpi mantiene asciutta la pelle con voglia all'esterno l'umidità e trattiene il calore al di sopra c'è uno strato antivento e termico omni heat con un particolare rivestimento in alluminio interno che riflette il calore corporeo e lo respinge all'interno lo trattiene all'interno quindi poco spessore ma molto calore e per finire il guscio il guscio protettivo termonastrato con membrana idro repellente e traspirante direi che tutto il sistema crea un confort molto elevato soprattutto in queste condizioni di alta umidità